Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale, parliamo di tutte le news, andremo a riassumere tutte le news della giornata, ma prima di iniziare questo video, per chi non l'avesse ancora fatto, gli chiediamo di iscriversi e attivare le notifiche perché ogni giorno ci sono importanti news, indiscrizioni e curiosità legate al mondo rosso nero. Obiettivo 6.000 tifosi, 6.000 follower, cuori rosso neri. Partiamo dalla notizia più importante di oggi, nel pomeriggio, come sapete, Sandro Tonali, dopo giorni di grandi trattative tra il Milan e il Brescia e il Milan entourage del calciatore, Sandro Tonali si è recato a casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Milan fino alla stagione 2026, fino al 30 giugno 2026, quindi un contratto quinquennale che in qualche modo testimonia come il Milan abbia deciso di puntare con forza su questo giocatore, e sono sicuro che Sandro, anche in virtù della voglia, del senso di appartenenza al Milan, dimostrerà in prossimi anni il suo grande valore, la sua grande crescita. Un anno gli è servito per ambientarsi, per prendere confidenza con l'ambiente, per prendere confidenza con un grande club e sono sicuro che già da questa stagione, la 21-22, Sandro dimostrerà tutte le sue enormi, enormi qualità. Quindi sono davvero contento della permanenza in rosso-nero e nel suo contratto di 5 anni per il grande Sandro. Altra notizia, altro cuore rosso-nero, parliamo di Davide Calabria, perché secondo quanto abbiamo raccolto, il Milan e Davide Calabria hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo e per il rinnovo di altre 4 stagioni. Infatti Davide ha raggiunto, insieme al suo pubblicatore ha raggiunto l'accordo con i dirigenti rossoneri, quindi ci sarà breve una firma sul contratto che legherà Davide, cuore rosso-nero, cresciuto nel vivaio rosso-nero, a legarsi al Milan fino al 30 giugno 2025. Quindi è una conferma importante per un giocatore che ha sempre dimostrato grande senso di appartenenza, grande voglia di restare a Milano, si è raggiunto anche con lui l'accordo e quindi oggi due giocatori che sono milanisti doc, che hanno voglia, che hanno grande senso di appartenenza, hanno rinnovato. E questo mi fa davvero, davvero molto piacere. Altra notizia importante, notizia di oggi, il Milan in qualche modo da quanto mi risulta sta anche discutendo il rinnovo per un altro calciatore rosso-nero, il calciatore in questione è Simon Kier, che adesso cercherà di finire al meglio il campionato europeo, poi avrà qualche giorno di riposo, qualche giorno di relax prima di tornare al lavoro sotto gli ordini di Mister Pioli, ma la volontà del Milan, la volontà di Simon Kier è di discutere presto il rinnovo, perché il contratto di Simon Kier è in scadenza al 30 giugno 2022. Quindi il Milan, per non vuole perderlo, andrà a discutere del rinnovo anche col capitano della Danimarca, capitano danese, che comunque ha testimoniato e ha voglia di restare in rosso-nero. Quindi il Milan che sta lavorando con grande, in qualche modo, di dizione, con grande passione, e sta cercando di portare avanti anche con grande determinazione la questione rinnovo. Il Milan, lo sapete tutti, trattiene e rinnova i giocatori che sono pienamente coinvolti, che sono pienamente decisi a restare in rosso-nero. Quindi rinnovo per Calabria, acquisto di Sandro Tonali, vecchio cuore rosso-nero, andremo a rinnovare anche Simon Kier. A breve, mi dicono, ci sarà anche il rinnovo di Frenchesi, perché il Milan, in fondo, ha dato l'ok per il maxi rinnovo, quindi per accontentare il calciatore ivoriano a firmare un quinquennale con 6 milioni netti a stagione. Quindi andrà a accontentare le richieste del presidente. Queste sono le indiscrezioni delle notizie più importanti legate al rinnovo, legate alla giornata odierna, quello che abbiamo raccolto per voi. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso e Nera.